O come ombretta! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Bene, ritorna il corso di Brush Lettering con le lettere O, P e Q Andiamo a vedere come si possono scrivere in bella scrittura queste lettere Sia in maiuscolo che in minuscolo corsivo Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Eccoci pronti per una nuova lezione del corso di calligrafia Lettere O, P, Q Quindi la mia iniziale finalmente Ok, per quanto concerne la O piccola Nulla di nuovo Si scende grandi Si sale piccoli Ghirigoro più grosso E si sale piccoli Quindi Si scende grandi Si sale piccoli Ghirigoro più grosso E si scende grande Ok, la O maiuscola ovviamente è uguale Quindi Solo che il Ghirigoro si ferma a mo' di frangetta Non esce Se volete farla uscire Ma a inizio frase Insomma È un pochettino Un po' pesante Questa uscita Del 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 ciuffo Diciamo così Potete farla così Oppure rigirarla dentro Ancora di più A me piace appena accennato P minuscola Si poggia sul rigo Sale la linguetta sottile E scende grande Si continua la linguetta Ok Quindi A salire Si scende grande E si rifà Volendo Si può anche fare così Di seguito Ok Scegliete voi La P maiuscola Parte dal rigo Quindi la faremo qua Per farvi capire Come si incastra Con il resto E la P maiuscola È una consonante Un po' Particolare Scende grande Gira e fa Il Ghirigoro E poi Ghirigoro dietro Parte in avanti E si chiude Volendo Potete fare questo Più largo O più stretto E adesso La Q La Q È una nota Un po' Dolente Perché la Q Corsivo È veramente Desueta Me la metto qua In immagine Ma non la faremo Perché non si usa più Non si usa più Né nella vecchia grafia Né nella brushing lettering E all'epoca Quando la insegnavano Insegnavano le due varianti È molto sgraziata La Q A modi due Quindi facciamo innanzitutto La Q minuscola La Q minuscola È come una O Ok E scende La Q Maiuscola Facciamo capo Facciamo finta che il rigore Di scrittura sia questo È una O Con un accento circonflesso Se avete studiato greco Sotto di sé Quindi vabbè Facciamo così Con una piccola Bavetta sotto E allora si fa così Si sale sottili Si scende grossi E si risale sottili Ok Nulla di che Vi faccio vedere Come sarebbe La Q maiuscola In corsivo Alias L'altra Che sarebbe Più o meno così Capite bene Che è molto 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 Brutta Da vedersi È più bella Per una questione Calligrafica E di linearità Anche Di quello Che vogliamo Disegnare Di quello Che vogliamo Scrivere La Q Normale Quindi questa Na Non mi piace Proprio Non mi piace Da vedere Questa sorta di Due Molto Ghirigorato La O La O La O 2 2 2 3 4 1 2 3 La P Per come l'abbiamo fatta la prima volta è 1 questo, 2 questo, 3 questo e 4 questo e poi questo è il 5. Mentre la seconda volta abbiamo fatto 1, 2, 3 e linguetta. La P maiuscola, 1, 2, 3, 4, 5 e mi raccomando chiudete la linguetta. La Q, questa non ve la consiglio, quindi no, e di questa facciamo 1, poi il 2 sale e il 3 scende. Di questa come la ho, 1, 2, chiusura, 3 e poi 4, questa ondina sotto la lettera. Bene, vi lascio alle foto con i passaggi, voi allenatevi e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Non è difficile, come vi dico sempre, qui basta l'esercizio, non è affatto difficile. Mi raccomando, ricreate i gesti che vi ho segnato con i passaggi delle foto e vedrete che tutto sarà molto, molto più chiaro. Cercate anche il post sul blog, a quest'ora dovrei averlo fatto, tutto l'alfabeto spiegato in un post, in modo che abbiate sempre bene la foto in evidenza e possiate copiare passo passo il gesto, in modo da avere una fluidità che vi aiuti e non dobbiate staccare l'occhio sempre verso il teleschermo. Bene ragazzi, spero che questo corso vi piaccia. Se è così, fatemelo capire con un bel pollice in su, scrivetemelo proprio in bella grafia e proprio a lettere cubitali. E soprattutto condividete il video sulla vostra pagina Facebook. Se vorrete farmi vedere i vostri progressi con la brush lettering, postateli sulla mia pagina Facebook. Sarò lieta di ammirare cosa state facendo. Noi ci rivediamo sempre qui su Arte per Te, ma io vi aspetto anche sul mio canale di cucina Due Cuori e una K, dove c'è anche il simpaticissimo Gabriele a condire di allegria i miei video. E su Ombretta, il canale mio personale, dove condivido una parte di me e delle mie passioni da donna che non siano l'arte e la creatività. Bene, scegliete voi dove venire a trovarmi, ma mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento di Arte per Te. Sempre qui. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!